Bene, ultimo argomento è inerente all'ordinanza che io avevo annunciato con una diretta e non solo con una diretta ma anche attraverso i quotidiani locali dove mi ero espresso dicendo che non aspettavo né Zaia e né il governo e avrei mandato avanti una mia ordinanza. E mi pare poi di essere anche stato tacciato di un irresponsabile, non so quello che dico eccetera eccetera. Comunque al di là di tutto questo io penso che le mie esternazioni, le mie volontà, le mie decisioni che vorrei portare avanti siano un po' la voce di un popolo o di una categoria importante che sono gli artigiani, i commercianti che stanno attualmente soffrendo. Io non vedo per quale motivo si possa dare la possibilità, ma questo è un mio parere personale, si possa dare la possibilità a delle aziende all'interno delle quali lavorano migliaia di operai o centinaia di operai e non si possa dare la possibilità alle attività artigianali, commerciali, quelle che attualmente ancora sono chiuse, parrucchieri, barbieri, ristoranti, bar eccetera eccetera dove ognuno di queste attività nei paesi ha delle caratteristiche specifiche e che probabilmente anche sono in grado di soddisfare e rispettare quelle che sono le normative vigenti per l'eventuale diffusione del coronavirus. Questa è anche un po' la voce di tanti politici, indistintamente dalle parti politiche, io penso che sia stata sollevata anche attraverso i media in questo problema e anche direttamente dagli imprenditori stessi o dagli artigiani stessi o dai commercianti stessi. Ebbene io sono stato anche convocato dal prefetto, ho fatto una lunga chiacchierata con il prefetto e io l'ordinanza l'ho preparata, non l'ho ancora pubblicata ma l'ho preparata e per dimostrarvelo io qui ho la mia ordinanza e dai contenuti importanti, dai contenuti che sicuramente saranno calibrati, saranno cuciti ad hoc per la mia comunità per cercare di aiutare, per quello che è la mia competenza, aiutare dove è possibile le mie attività e non solo le attività, anche le esigenze dei miei cittadini e dei miei compaesani. E' un'ordinanza costituita da 13 punti, 13 punti importanti dove sicuramente saranno inserite e evidenziate delle particolarità e delle peculiarità che possono essere scontrate nel mio paese ma in tantissimi altri paesi. Dal colloquio del prefetto ne è uscito un colloquio molto tranquillo, un colloquio è stato costruttivo, di confronto, di approfondimento e dove attualmente sto anzi perfezionando gli ultimi ritocchi e non so quando sarà la giornata precisa, il giorno preciso io pubblicherò questa ordinanza dai contenuti che ritengo siano importanti per la comunità stessa ma anche per le attività commerciali. Una notizia degli ultimi ore, forse anche di ieri, quello che io sto dicendo lo hanno già sollevato i governatori delle regioni ma non perché l'ho suggerito io, perché naturalmente è un problema di tutti, di tutti i commercianti d'Italia è un documento che hanno approvato in modo unanime tutti i governatori e che stanno condividendo con il governo centrale.